Nuova mattinata di testimonianze dirette ed acquisite, quella nell'aula bunker del carcere di Trani, dove è in corso risvolgimento il processo sulla tragedia ferroviaria del 12 luglio 2016. Nell'udienza di stamane in particolare ci si è concentrati sul sistema del blocco telefonico, il sistema che in qualche modo nella mattinata della tragedia non funzionò nel modo più corretto. Un sistema naturalmente ritenuto vetusto attraverso le intercettazioni telefoniche udite dai giudici in aula e delle testimonianze di alcuni consulenti si è ripercorsa l'intera mattinata di quel 12 luglio, a partire dalle ore 9 per arrivare attorno a mezzogiorno, anche negli istanti immediatamente successivi al disastro ferroviario. Due telefoni, di cui uno fisso ed uno cellulare, con i quali capi stazione comunicavano partenze ed arrivi dei convogli. Sulla tratta è stato evidenziato durante l'udienza, erano presenti anche delle telecamere, di cui alcune però non funzionanti, tra gli altri ha ascoltato in aula anche Stefano Benedetto, il capo stazione che diede il cambio a Vito Piccarreta in quella mattinata. Anche attraverso la testimonianza diretta del capo stazione è stato analizzato il funzionamento del blocco telefonico, oltre a quanto accaduto successivamente allo scontro tra i due treni.